Ciao a tutti, benvenuti su Anita Stories, io sono Anita e oggi vado a mischiare tutti i miei slime questi non sono slime fatti da me ma sono slime comprati o che mi sono stati inviati quindi sono super curiosa di vedere come diventeranno tutti mischiati andremo anche a rivederne alcuni di cui mi ero completamente dimenticata andiamo a vedere come sono diventati insomma sono super curiosa, provate a scrivere ora nei commenti secondo voi di che colore uscirà il mega slime con il mix di tutti gli slime vediamo chi indovina, però dovete scriverlo ora alla fine del video vedremo chi ha indovinato in più alla fine del video potrete mettermi minuti nei commenti degli slime che vi sono piaciuti più di tutti siete pronti? mettetevi comodo il video tutto schermo, cuffie se volete, popcorn, lasciate un bel like e iniziamo subito ho preparato il contenitore, scusate è un po' celeste perché dentro c'era un altro slime e non si toglieva allora iniziamo subito con la pasta magica, chi se la ricorda questa? vediamo un po' com'è diventata trasparente con le palline si è un pochino inurita ma più o meno è uguale, è incredibile che è resistita così tanto e fa i suoni crunchy, ve li ricordate? wow, fa ancora i suoni crunchy, incredibile, è durata benissimo prossima trasparente con le palline anche questa è rimasta uguale praticamente sentite che bei suoni smr e via, mettiamo anche questa oh, questa è rosa oh, che bel colore un verde acqua sentite che bel suoni wow nero rosa mmm prossima ne abbiamo una glitter tadaaa wow wow che bello si spezzano un po' perché vanno scaldati un po' con le mani tadaaa sta iniziando ad esserci un arcobaleno di colori wow prossima abbiamo un'altra crunchy con le palline blu tadaaa 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 La maledizione del verde Ecco un altro verdolino scuro Oh che bel colore È una sorta di fucsia Con tutte le stelline che bello Un rosso e giallo Mi ricordo che questo mi sa che era il mio preferito È trasparente con le farfalline Guardate che bello Wow È bellissimo Oh che bel rosa È bellissimo Wow Quanti litri tupenti Wow E questo è l'ultimo delle pasta magica pasta squishy Devo dire che si sono ottenuti tutti benissimo Incredibile Quindi questo è il primo strato di slime Cioè che figata C'è tutto un arcopaleno Wow è bellissimo E ora passiamo a degli altri slime I prossimi slime I monster potion sblobbi E' bellissima È bellissima il nostro corso il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Alla prossima. 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 C'è un po' di colori passaggi, è un mezzo di riempa. ha davvero un milione di colori alla prossima ecco qua come è diventato penso che forse quasi nessuno abbia indovinato il colore perché è un colore arcobaleno una sorta di mix io l'ho mischiato per un sacco di tempo per cercare di fargli avere un colore uniforme insomma però siccome le consistenze degli slime sono quasi tutte diverse non si riesce a mischiare completamente e avere un colore uniforme ma a me piace tantissimo questo effetto colore super arcobaleno guardate un po' quante sfumature ha wow è bellissimo e i suoni sono fantastici quindi chi ha scritto slime arcobaleno o galaxy o mix di colori comunque ha indovinato va un po' più sul blu forse è un po' più blu e marroncino quindi questo era il mix di questi slime lasciate un bel like se volete vedere altri video smr altri video slime e ora vi lascio qua 4 casellini su cui cliccare per vedere i miei altri video cliccate su quella che preferite e buona visione ciao